ok ci siamo cosa piccheranno? olimpia e claren ok a laser piace sto stage ci ha giocato tipo anche due game prima con simone sì a me quello giocato a claren piaceva anche me sto stage ce lo vedo sarebbe figo vedere laser fare top 8 al suo primo poso online sarebbe davvero figo sì che buon perry ok una cosa abbastanza prevedibile di claren sono i noi fa a b wall jump double jump e ir dojon stage e fare un tilt infatti il nepp l'ha perriata perchè è tipo buono ma è come su smash samus che ti fa double jump fare dal legno è un buon esempio è tipo è buonissima come cosa solo che diventa molto prevedibile diventa sempre perchè è anche quasi troppo buona oddio cosa vuole fare wow wow nepp era già lì che stava cercando per fare a b e non ce n'è stato bisogno niente non prende la fsmash fa la night con un po' di nentral però che ovviamente nentral come si chiude con dare di olympia dare di claren full up dare migliore opzione del gioco lo sapevate? no orti non lo sapevo grazie è vero cosa claren ha fatto con l'up dare? non ci credo però abbastanza even ok perri up smash oddio al 48% poteva portarsi a casa qualcosa di più però anche secondo me oh wow oddio non così oh l'ha salvato? mi sembra si l'ha salvato di brutto ha fatto un po' una cazzata però almeno il laser è un homie e non gli ha fatto fare z però si è preso comunque 40% eh ok che paura oddio no istinti suicidi oggi down smash down smash ok ok I see you un po' di upper per capire upper sai che contro claren effettivamente l'armor di olimpia deve essere abbastanza inutile perchè tutti gli ariel a parte cioè nair e fair sono entrambi multite sono alla fine le ariel con cui approcci l'armor di olimpia fa abbastanza niente in sta forza in sta match art perchè gli olympi player sono così a ninja perchè personaggi a ninja wow up smash wow cute così ti per nair up smash è un po' di più che vantaggio di laser tra l'altro bistocca proprio proprio chiare si no il laser mi sta piacendo una vero tanto è be nice vederlo di più oddio stage con le scimmie bellissimo abbiamo scelto la versione superiore di questo stage si a me piace di più esteticamente però tipo non lo so un pochino mi confonde non so io preferisco di gran lunga quello originale ma anche la color palette quello la poi figa io tutto verde l'altro stage ah si ragione la cosa più a me ci sono le scimmie esatto oddio però no buon down smash ok bellissimo up nice scimmie ridono credo che la knife special la knife special torno e faccio uno smash magari ci entra oh bello però ho trovato l'hacking sulla di sul fair e riporta even nonostante fosse abbastanza low percent laser mi piace il colore di claren forse il verde non mi fantazzira però il resto ok 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 monafoby un get off mi afoby un afoby di ultimate esatto oh wow bello è riuscito a riversare verso l'offstage così ok oh c'era bam col perri è un po' unnecessaria ha droppato l'advantage così ok nice bravo c'ha le conferme c'ha le conferme eh qua deve riuscire di nuovo a smixargli la di perché altrimenti è tragico è al 58 non che olimpia non possa spingere delle stock però eh sì però ce lo può fare però non so secondo me ne ha più momentum veramente tanto tempo e occasioni a fare quei neutral b per resguardare quando potrebbe resguardare normalmente con le sue novi sì anche secondo me però qua invece ci sta ah funzionato qua ci sta eh qua deve trovare la stringiata deve riuscire a la stringiata a bring back Carlo oh che paura troppo momentum troppo momentum eh qua è andata niente sì è stato un po' crazy ci stava l'idea 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 era solida però troppo momentum perché in genere le olimpie un po' stupide fanno quei sidebill però lui era cosciente del fatto che c'aveva Laura e di poter tornare indietro però non aveva contato tutto quel momentum che l'avrebbe fatto andare offstage di nuovo mi sei trovato un po' in una situa in una situa scomoda ecco crazy 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 oh oddio lo stage più divertente del gioco mi ti piace direi che è un equivalente di dreamland su Roan è melee dreamland non così polarizzante però è lo stage grosso con le blast zone grosse con le piatte alte è tipo fastidioso un po' nuioso da giocare dentro non ci ha tirato fuori molto da quel cristallo poteva poteva succedere qualcosa di di pazze ok però ritorno aggressivo ok no with a left il sarebbe stata grossa occasione 66% ma andava lontanissimo poteva sbordare oh bello recover era interessante oh oh vedi oh bravissimo ne wow no ma che però però bravo ne che ha imparato a non fare i neutral beat e a edgeguardare come un umano andiamo però riesce a tornare 1 000 uccide a 2 ok ok ah bellissimo ah bellissimo Perry bravo 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 le c'è tutte le c'è tutte mi sorprende sempre di più eh bravissimo ok bel tech ok arriva il downer un possibile riuscire a rinnovare no 70 di ping per un attimo però ok un attimo di lux ci preoccupi si 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 post game superi in tutti nessuno vuole andare nessuno vuole dover extendare tutti dicono no quel cazzo ok però double jump there vince il net tra alcuni se in cenni tra di resti batti esatto certo oddio per l'esco wow si è per l'esco tanto si si ok è niente sour day raps ok bravo per aver letto cioè letto la della di ho reagito non so come funziona con flyer però molto bravo come funziona che tu fai up comunque si dici nel dubbio let it rip a me no io funzionavo così poi ognuno c'ha su ok qua laser sta tenendo benissimo il game si è preso sto 70% del lead wow wow ah cavolo oddio che di ai 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 ah è la fine è la fine non c'è più niente però è stato bravo era bello quello alto non se lo aspettava non era pronta a coprirla oh wow ok oh sempre sti da wow wow ah niente non prendo il ferro ottimo è stato un po' lento quell'up si sconnetteva è stato un po' lento kill? no no non su questo stage neanche questo neanche questo ho questo ho questo questo però niente oddio no no oddio terrore terrore panico oddio nebb sei un cretino però sei morto no oddio no oddio oddio no le meccaniche sono meccaniche che ciocco poteva riportarlo a evenstock è passato in mezzo al down smash ner ok fsmash ti dà sour però al 180 può essere sour quanto vuoi mamma mia laser 3-0 incredibile